Ieri, chi ha visto il mio video su Instagram, chi mi segue, ha visto che ho cantato l'inno d'Italia. È vero, in questo periodo più che mai mi sento felice di essere italiana. Lo sono sempre stata, ma mai come adesso. Sento questa unità, questa amicizia, quest'amore che ci avvolge e questa passione, questa vitalità, noi la dobbiamo portare avanti, dobbiamo essere forti, stiamo in casa, ne usciremo presto, prestissimo, io ne sono certa. E un applauso a tutti i nostri medici, alla sanità, fate cose fantastiche. Noi vi abbracciamo tutti virtualmente. Un bacio a tutti, coraggio, eh? Ci torniamo a vedere presto, ci vediamo presto a teatro.